Ciao a tutti, benvenuti all'interno di questo TechPoint by Torx. Siamo in compagnia della VBX2200, come avrete potuto sicuramente vedere nel nostro video di presentazione generale. Oggi andiamo a vedere in maniera più dettagliata come effettuare delle regolazioni veloci e funzionali all'interno della vostra palestra. La panca presenta regolazioni sia per lo schienale che per la porzione di seduta. Andiamo a vedere come trovare gli angoli di 30 gradi e di 45 in maniera veloce. Nella configurazione attuale, quindi con tre fori visibili, la vostra panca è a 45 gradi, mentre facilmente tirando qui la manopola gialla e diminuendo di un foro, quindi lasciandone solo due visibili, la vostra panca assume un'inglinazione di 30 gradi. Per quanto riguarda la seduta, invece, è bene ricordare che l'inclinazione è soggettiva, quindi non parliamo di attivazione muscolare ma di comfort del soggetto per avere un buon appoggio allo schienale, evitare di stressare la nostra curva lombare e permettere di lavorare in sicurezza. Questo è tutto per quanto riguarda la VBX 2200 e noi vi diamo appuntamento al prossimo Tech Corner by Torx.